Qual è il tuo desiderio? Voi avete paura di prendervi quello che vi spetta! Selezionerà tre tra tutte le persone che parteciperanno ai casting di domani. E porterà a conseguire i successi che loro desiderano. Molla i panni di Bridget Jones Matilda e inizia a indossare quelli di una donna indipendente e sessualmente determinata. Non è molto il mio genere. Dobbiamo eliminare questa riasciata e rassegnata da vecchio pensionato e trasformarti in uno squalo. Io voglio mostrare al mondo quell'anima rock e trasgressiva che metti nei tuoi libri. E allora attenti a quello che desiderate, perché qui con me oggi lo potrete ottenere! Chi eravamo prima? Noi siamo stati una parte di bugia e una di verità. Forse anche tu devi capire qual è il tuo desiderio. Forse anche tu devi capire qual è il tuo desiderio. Grazie a tutti.